La settima giornata di Serie B è già uno spartiacque importante per molti club cadetti, per le loro ambizioni e per testare la reale forza della propria rosa. L'Ascoli, che ha trovato la sua prima vittoria a Cesena, riceve in casa la corazzata Palermo. Fiorin non si nasconde e sfodera un 4-3-3, con Baldini, Favilli e Varela in attacco. I rosa-nero, senza Nestoroschi squalificato, schierano Lagumina al fianco di Traikoschi. Il Brescia di Boscaglia affronta la capolista Perugia. Con Gasta del Dello Out, le rondinelle si affidano al bomber Calarciolo al fianco di Rinaldi. Per gli Umbri, il solito 4-3-2-1, con buon aiuto a sostegno di An e di Carmine, coppia offensiva. Carpi e Pescara arrivano entrambe da 1-0-0. Al Cabassi, Zeman non rinuncia al tridente, composto da Pettinari, Del Sole e Capone. Calabro non si schioda dal 3-5-2, con il sorprendente Malcore al fianco di Manconi. Cerca la terza vittoria di fila il Cittadella, che, dopo il colpaccio di Empoli, riceve al tombolato una Virtus Entella imbattuta da tre turni. 4-3-2-1 speculari per entrambe, Litteri e Kwame in attacco per i Veneti, Luppi e De Luca per i Liguri. È già scontro salvezza tra Provercelli e Cesena. Al Piola, i piemontesi devono verificare le condizioni di Gidai, mentre davanti, Morra e Rajcevic, si contendono una maglia da titolare. Dal Monte, Cacia, Giallò, i terminali offensivi per i Cesenati. Spezia Bari è la prova di maturità per Grosso e i suoi galletti. I Liguri, su sette punti totali, sei li hanno raccolti in casa. Eschierano, forte, al fianco di Granuce per scardinare la resistenza pugliese. Il Bari maschera un tridente con un 3-5-2. Floro Flores, Sissé, supportati da Improta nell'attacco pugliese. Ternana-Venezia sarà la sfida del Liberati. Pokesci potrebbe favorire Carretta e Finotto ad Albadoro e Candellone in attacco. Per Inzaghi, Outgeco, quindi davanti Spazio-Azigoni. Iudono il turno, Foggia-Novara, domenica 1 ottobre alle 17.30 e Frosinone-Cremonese, lunedì 2 ottobre alle 17.30.